Con questo sequestro sicuramente abbiamo interrotto il maggiore canale di spazio per Sansepolcro. 21 anni incensurato, Biturgenze quindi originario di Sansepolcro e residente nel comune della Valtiberina. Questo l'identikit dello spacciatore fermato dagli uomini del commissariato di polizia di Sansepolcro, ingente il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata che il ragazzo nascondeva in un bosco. Un quantitativo importante per la Valtiberina quello che avete sequestrato? Sì, è un quantitativo importante, sono circa 2 kg abbondanti di stupefacente, sono marijuana, hashish e somma di denaro consistente oltre 3.000 euro. La droga era nascosta in un bosco sotto gli alberi tra la vegetazione e nella località basilica frazione del comune di Sansepolcro. A segnalare alle forze dell'ordine i movimenti sospetti del ragazzo erano stati alcuni cittadini. Da lì sono partite le indagini e alla fine il giovane è stato seguito dai poliziotti una volta sul posto e verificato la presenza della droga. Sono scattate le manette. Teneva tutto lo stupefacente lontano da casa, quindi difficilmente riconducibile a lui, nascosto in modo certosino e preciso all'interno di una zona boschiva molto ampia. E questo naturalmente ha comportato anche da parte nostra un dispegno di risorse e anche di persone perché sono stati organizzati degli appostamenti continui che hanno proprio fatto un controllo completo della zona. I poliziotti hanno ritrovato anche una ricevuta che lo spacciatore consegnava ai suoi clienti. Questo è una nota a margine, era talmente sicuro di sé nella sua attività di spaccio che non disdegnava neanche di rilasciare agli acquirenti delle ricevute dove annotava in modo medicoloso il nome, il tipo di droga di venduta e l'importo.